Quando l'esercito dei Darkhan cercò di invadere Gorm, i Lord dei Quattro Regni si unirono. Avevano bisogno di una fortezza in grado di resistere agli attacchi dei Darkhan. I Darkhan decisero di costruire la torre al centro di Gorm, dove tutte le energie sono più forti. Ma i Darkhan decisero di lanciare un durissimo attacco. Gorm era stata trasformata e la torre aveva perso gran parte del suo potere. Ma all'ultimo istante i Lord attivarono l'Elestar. L'Elestar confinò Voidus e il suo esercito a Darkor. Fino ad oggi. E quando il giorno tornerà, i regni saranno inghiottiti dall'oscurità. Darkhan, oggi è il giorno in cui Gorm diventerà nostra. Sì! Era ora! Non è rimasto niente da mangiare qui, nemmeno un briciolo di energia. Sarà come nei vecchi tempi, prima che i Gorm ti umiliassero Voidus. La luce che protegge Gorm sta diventando debole. Quando le lune saranno allineate al sole, sarò in grado di aprire un varco attraverso il loro scudo. Gred, portami il loro prezioso Elestar. Il suo potere è in grado di rompere le barriere tra i nostri due mondi. E allora, noi lasceremo Darkor e invaderemo Gorm! Io non vi deluderò, Lord Voidus. Finalmente ci siamo! Gorm sarà nostra! Ora, andate a prendermi l'Elestar! Come annunciato dalla profezia, quando il giorno tornerà su Gorm, la nostra oscurità lo seguirà. Adesso che l'Elestar è in mio possesso, condurrò il mio esercito a Gorm. L'epoca dei Darkan si avvicina. Per creare il nostro nuovo regno, dovremo eliminare ogni traccia di quello precedente. Gorm, è da tanto tempo che desidero ridurre in polvere questo posto. Gormiti irraggiungibili, chi mi fermerà? Gormiti! Gormiti!